Buonasera a tutti, ci troviamo qui a Roma Webfest, siccome c'è una telecamera davanti a me, ho fatto un po' più lo stile giornalistico, sai quelli d'assalto, no? Attenzione, a me la telecamera, no scherzo, siamo qui in diretta da Roma Webfest, io sono Stefania, sono la nuova speaker di Radio 108 Network e quindi sono molto emozionata perché comunque per me questa è la prima diretta, quindi sono partita come direi col botto, nel senso che 12.000 ore di diretta non è semplice, per fortuna che ci alterniamo, però insomma è un bel evento, è un bel evento, è un bel evento. Ci stiamo divertendo molto, abbiamo fatto molte interviste, abbiamo visto insomma tanti personaggi famosi tra cui Luca Argentero, che toccava comunque dirlo e quindi, odio, al malincuore del mio collega Carlo che non lo so un po', e io c'ero, io c'ero, però lui, vabbè, però Carlo giustamente ha visto la moglie di Luca Argentero, mi pare anche giusto, vero Carlo hai visto la moglie, quindi è chiaro che è. E niente, allora stiamo aspettando con ansia, ma un'ansia che è proprio dal più profondo, no, delle viscere, insomma chi sarà il vincitore? A breve si dovrebbe sapere, verso le sei e mezzo sapremo il risponso e quindi è bello questo ambiente perché insomma ci mostra quanto noi siamo diciamo affezionati e quanto ci piace questo lavoro, quanto c'è, quanta passione c'è per quello che facciamo e quindi mi raccomando, ascoltate Radio 108 Network e a questo punto vedete anche il video perché insomma è quello più importante, ciao!